Mercati diciamo così strabici nell'ultimo giorno della settimana, il venerdì. Strabici perché oggi sono arrivate almeno tre notizie potenzialmente positive o moderatamente positive, trovate voi il modo giusto per dirlo. Però i mercati in realtà non hanno reagito bene a queste notizie ma hanno chiuso in calo. Lo vediamo, hanno chiuso in calo anche la borsa di Londra dopo le elezioni inglese, hanno chiuso in calo un po' tutti i mercati tranne Francoforte e la stessa borsa di Milano ha chiuso la giornata in negativo anche se in realtà era positiva nelle prime momenti della giornata, anzi anche nel primo pomeriggio. Ecco, quali sono le tre buone notizie o moderatamente o potenzialmente buone notizie? La prima è proprio legata alle elezioni in Gran Bretagna. Il mercato, se si leggono i commenti degli analisti e degli economisti, il mercato legge in maniera abbastanza positiva l'esito elettorale in Gran Bretagna perché c'è una maggioranza solida in Parlamento con un governo quindi solido, un governo laburista e poi dopo tanti anni di governo e di conservatori arrivano i laboristi al potere e quindi qualcosa può cambiare, la Gran Bretagna può prendere uno slancio diverso e quindi potenzialmente questa è una notizia vista in maniera positiva dai mercati o meglio dagli analisti perché poi i mercati, l'abbiamo visto, la stessa borsa di Londra ha chiuso in calo. La seconda notizia potenzialmente positiva arriva dalla Francia che in realtà non è una notizia di oggi, dei giorni scorsi. Quando ci sono stati gli accordi di desistenza che hanno ridotto la probabilità che Marine Le Pen, l'assemblement national, possa vincere l'elezione, possa avere la maggioranza assoluta nel Parlamento francese nelle elezioni di questo weekend, ecco dopo questi accordi che hanno ridotto questa probabilità il mercato ha tirato un po' sospiro di sollievo, ha tirato un sospiro di sollievo perché teme che una vittoria, una maggioranza assoluta dell'estrema destra in Francia possa avere un impatto negativo sui conti pubblici francesi, l'estrema destra è vista un po' più, diciamo, meno attenta al rigore di bilancio e consideriamo che la Francia ha un elevato deficit e sotto procedura di inflazione è stata declassata di rating e quindi il mercato è, diciamo, a nervo scoperto su questa tematica. Quindi il fatto che ci sia stato un accordo di desistenza che riduce appunto la probabilità di una maggioranza assoluta ha rasserenato gli animi, tant'è vero che nei giorni scorsi c'è stata una reazione positiva ma oggi non c'è stata affatto una reazione positiva. La terza notizia potenzialmente positiva ma anche qui non ha creato grandi movimenti positivi sui mercati è arrivata dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti sono arrivati tanto attesi dati sul mercato del lavoro. Dati contrastanti ma tendenzialmente positivi. Perché? Perché da un lato sono aumentate più del previsto le assunzioni, cioè diciamo i nuovi posti di lavoro. Erano attesi 200.000 e nel mese di giugno sono stati 206.000. Questo non è visto positivamente dal mercato perché il mercato spera che il mercato del lavoro si calmi perché questo significa che la banca città americana può tagliare i tassi. Però nonostante questo dato negativo ne sono arrivati altri positivi. Per esempio è stato rivisto pesantemente al ribasso il dato di maggio, quindi il mercato del lavoro a maggio è risultato peggiore di come era stato presentato in precedenza. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito dal 4%, cioè dalle attese il 4% è uscito al 4,1%, quindi un pochino più alto e anche le paga orarie sono calate. Questo significa che il mercato del lavoro negli Stati Uniti sta gradualmente, si sta gradualmente deteriorando o indebolendo e questo nell'ottica diciamo al contrario dei mercati è positivo perché significa che la banca centrale americana che guarda molto il mercato del lavoro può tagliare i tassi, tant'è vero che le probabilità di un taglio dei tassi negli Stati Uniti già a settembre sono aumentate intorno al 70-80%. Quindi tre notizie potenzialmente, ripeto, moderatamente, lievemente positive in realtà non hanno prodotto un rialzo di borsa. Perché? Il motivo probabilmente è il fatto che da un lato avevano già corso, avevano già apprezzato queste cose, quindi non sono arrivate grandi novità oggi, punto primo. E punto secondo, alla vigilia comunque del voto in Francia del secondo turno tanti investitori stanno probabilmente mettendosi in modalità prudenza e stanno riducendo i rischi su portafogli. Questo è probabilmente il motivo della chiusura e ribasso delle borse e vedremo poi lunedì come apriranno.